Dottoressa Anna Maria Molino, referente della rete CittàSane sia a livello locale che a livello nazionale, in qualità di vicepresidente, è appena finito il Festival della Salute Planetaria, però a quanto pare non è finita qua. Sì, a Verona è appena finito il Festival della Salute Planetaria, ma in realtà il festival è continuo. La Salute Planetaria significa salute umana degli animali, dell'ambiente, e per quanto riguarda la salute umana, salute fisica, salute mentale e salute sociale. E sono collegate, sono collegate tra loro perché senza una di queste non ci sono nemmeno le altre. Il concetto di planetario è proprio il concetto anche che non possiamo interessarci solo della salute qui da noi, perché una malattia, c'è migliaia di chilometri da noi, comunque in pochi giorni arriva anche da noi, quindi tutti devono stare bene. Il festival continua però, continua perché abbiamo raccolto una serie di idee, di informazioni, di consigli, di novità, tutte basate strettamente sulle evidenze scientifiche e noi vogliamo adesso diffonderla in città, vogliamo contaminare la città ancora più di quello che abbiamo fatto in tre giorni, abbiamo 365 giorni per diffonderla in città. Faremo una brochure che diffonderemo a tutti con questi concetti e soprattutto andremo per le circoscrizioni a parlare di queste cose, a parlare di stili di vita corretti, perché gli stili di vita corretti sono uno dei principali determinanti della salute, cioè quelli che fanno sì che noi stiamo bene o ci ammaliamo, ci ammaliamo delle cosiddette malattie croniche, non trasmissibili, diabete, ipertensione, obesità, tumori. Quindi noi andremo, parleremo, spiegheremo e faremo quella che viene definita adesso con un termine nuovo, che si chiama health literacy, cioè alfabetizzazione sanitaria, cioè non solo dici una cosa, il fumo fa male, va bene, lo sanno tutti, ma spieghi bene perché, spieghi tutte le motivazioni, spieghi i vantaggi, in modo che le persone acquisiscano consapevolezza, abbiano una cultura su quell'argomento e quindi effettivamente possono in modo consapevole decidere se smettere di fumare. Quindi questo sicuramente lo faremo in modo da essere pronti per il prossimo festival con un terreno culturale da un punto di vista di salute in città sicuramente migliore di quello di oggi, mi auguro. Ecco, lei faceva riferimento alle evidenze scientifiche, perché sappiamo che Google ha preso il posto dei medici, fa attività di medicina, però in rete si trova di tutto e di più. Quindi quanto è importante in effetti invece saper distinguere l'alfabetizzazione di cui parlava? Allora è molto importante l'alfabetizzazione di cui parlavo perché effettivamente in internet si trova tutto e il contrario di tutto e quindi ognuno sceglie l'informazione che gli fa più comodo, quindi questo è umano. Per questo è molto importante andare a raccontare le cose, ma dare anche le fonti da cui sono state prese, perché in fondo ci sono cinque siti istituzionali in Italia che sono fatti molto bene, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, AIRC, Fondazione Umberto Veronesi, per citare la LILTE, per citarne alcuni, in cui sicuramente uno trova tutte le informazioni ed è sicuro che sono basate su delle basi scientifiche. Quindi basta scegliere la fonte dell'informazione e noi quando andiamo a parlare lo diciamo, proprio diamo l'indirizzo dove possono trovare queste informazioni, perché è molto importante.